Siamo partiti? Uè, dancer di Let's Move! Siete pronti oggi col tutorial per il balletto finale? Tutti dovete imparare, giusto? Yes, of course. Quindi hip hop, non hip hop, grado 1 al grado 1000. E genitori anche. Anche i genitori che magari anche dalla platea adesso possono ballare tranquillamente, la sanno. Allora, partiamo. La musica la dovreste sentire di sottofondo. La prima cosa, dobbiamo fare quattro passi verso destra. Ok, con le mani che spingono su. 3, 2, 1 e vado. 1, 2, 3, 4. Scendo, vado giù, mi abbasso. 1, 2, 3, 4. Ok, adesso mi chiederanno con che gamba partiamo? Con la destra. Faccio girata? Dopo facciamo la versione girata. Quindi abbiamo, facciamo con la gamba destra, parte. E 1, 2, 3, 4. Anche qua parte la gamba destra. 1, 2, 3, 4. Ok. Poi abbiamo il Charles Stones. Quindi parte gamba destra, va avanti. Unisco. Sinistra dietro. Unisco. Gamba destra. Unisco. Va sinistra. E torno. Adesso, dopodiché, avevamo... Tac, mi giro sempre sul lato destro e gamba sinistra fa avanti, Indre, avanti, Indre. Io direi di ripeterlo da capo un attimo, Jesse. Cosa dici? Da capo. Andiamo verso destra. Parte la gamba. Destra. Perché alcuni sono capaci di partire anche così, quindi noi specifichiamo. Vado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Charleston, va avanti la gamba destra. 1, 2, dietro sinistra. Destra. Sinistra. Mi giro con un piccolo saltello verso destra. E vado. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Torno in centro e abbiamo dito destro, dito sinistro e indico. Ok? Dopodiché abbiamo batto-batto, giusto? Bounce. E andiamo. E 1, 2, 3, 4. Il primo bounce è a destra. Rifacciamolo ancora, vai. 1, 2, 3, 4. Poi metto manine, 4 battiti. 1, 2, 3, 4. Scendo a sinistra con il rullo di mani. E questo vi piace sicuramente. Vado di asce l'out e spalle. Vai, rovazzi insegna. Rifacciamo stessa cosa verso destra. 1, 2, 3, 4. Vado di rovazzi. Ok? Rifacciamo tutto da capo. C, 6, 7, destra. 1, 2, 3, 4. Destra. C, 6, 7, destra avanti. 1, 2, 3, 4. C, 6, 7. Fermi. Sinistra. 1, 2, 3, 4. Dito. Dito destro, dito sinistro. E indico. Bounce. 1, 2, 3, 4. Battito. 1, 2, 3, 4. C'è Luca che già è preoccupato per il palletto. Rotolo. Ascella. Sì che è facile Luca. Vado rotolino e vado. Ok? Adesso abbiamo la camminata giusto Jesse? Bisogna camminare avanti. 1, 2, 3, 4. Fate quello che volete. Casino. E spingo dietro. Sì. Quindi è 1, 2, 3, 4. Ci fermiamo con davanti la sinistra. Posa come voglio. Quello che volete. Da lì spingo indietro. Naturalmente sarà la prima fila. Spinge per primo. Seconda. Tipo onda. E poi si ritorna indietro. Esempio. Facciamo un esempio. Guardate. Io sono prima fila. Spingo. Spingo. Ritorno. Parte Jessica. Poi ritorno io. Capito? E finale. Dito. Dito. Ritorno là. Ok? Lo proviamo ancora una volta con la musica. Senza musica, scusate, poi con la musica. Vuoi fare... No? Dobbiamo rifare il video? No, no, no. 3, 2, 1 e... 1, 2, 3. Perché chiudo. E poi vado. C, 6, 7, 8. Charles. 1, 2, 3, 4. C, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Dito. Dito. Indico. Bounce. Destra. 1, 2, 3, 4. Batto. 1, 2, 3, 4. Giro. 1, 2, 3, 4. Rovazzi. E vado ancora. 1, 2, 3, 4. Rovazzi. Yes. Vado avanti. 1, 2, 3, 4. Mi fermo con la sinistra. Davanti. Spingo. 1, 2, 3. Ritorno indietro. Posa finale. Dito. Dito. Indico. Indico. Iniziamo a fare così, poi vediamo il diverso. Adesso facciamo indico. Poi ognuno può scegliere la posa, ma vedremo. Oh, yes. Mettiamo il sound. Allora, sarà l'ultimo ritornello questo. Perché la prima parte della canzone ogni gruppo aveva una coreografia, un 4-8 da fare. Ingresso, ballo ed esco. Ok? Quindi, prendiamo un ritornello a caso. Perché questo è diverso dalla nostra. Attenzione che veloce. Già ho sentito le mie di Moderno, ma figurati se non era veloce. Oh, dio, mi stavo dimettendo. ok lo rifacciamo eravamo in ritardo 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ok allora io e Jessica e Sara ve lo diamo per compito mi raccomando studiate bene che almeno quando torniamo questa parte è già fatta good job ragazzi ciao ciao ciao